Contestazioni, Maradona realizza su punizione ma l'arbitro non avrebbe fischiato, Bianchi parla di situazioni strane. Contestazioni, Maradona realizza su punizione ma l'arbitro non avrebbe fischiato, Bianchi parla di situazioni strane. Casa è di breve durata, c'è un calcio di punizione, un fallo forse su bagni, le immagini sono confuse. E' un altro rigore contestato e trasformato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato questa volta da Maradona. E anche il definitivo pareggio è originato...